Berretta, a chi dice che questo governo non ha una legittimità popolare perché comunque non è stato scelto dagli italiani e agli altri che dicono come è possibile che non si poteva scegliere nessun altro tra i 900 parlamentari che c'erano già e si è dovuto pescare altrove? La scelta di Monti è una scelta frutto delle caratteristiche soggettive dell'uomo. Una persona sicuramente molto competente ma fondamentalmente una persona che ha fatto una grande esperienza a livello europeo ed è questa l'esigenza prioritaria che noi abbiamo in questo momento, cioè rilanciare l'Europa, rilanciare un'Europa politica e riprendere all'interno dell'Europa politica lo spazio e il ruolo che l'Italia a causa delle incapacità di Berlusconi in questi anni ha perduto. Allora, chiunque, no, io non credo che chiunque possa svolgere quel ruolo, non credo che ci fossero parlamentari più adatti per la gestione di questa fase è ovvio che come Partito Democratico abbiamo fatto una scelta che è stata una scelta che un po' ci ha pesato perché ovviamente sapere che dal punto di vista dei sondaggi tu sei lì sicuramente col vento in poppa con tutte le possibilità per vincere le elezioni e tuttavia fermarti per assecondare una legittima richiesta del Presidente della Repubblica che comunque mettendo in primo piano le esigenze del Paese è stato un gesto che io reputo vada valutato per quello che è e che a Bersani in particolare in questo senso vada riconosciuta una grande capacità, un grande stile e una grande voglia di mettere davvero in primo piano non se stesso ma l'interesse generale. Grazie Grazie Grazie